Una seconda pandemia. Così definiscono il difficile il momento che stanno attraversando i rappresentanti della filiera vitivinicola della regione Abruzzo. A mettere in ginocchio il comparto enologico, il fungo della peronospora. Una perdita acclarata di circa 2,7 milioni di quintali di uva, pari a circa 2 milioni di ettolitri di vino, che tradotto in termini di imbottigliamento equivalgono a circa 260 milioni di pezzi. A livello economico il danno non risulta inferiore ai 380 milioni di euro. Oggi, lo dobbiamo dire, non è una conferenza di bandiera, non è una conferenza di colore, è una conferenza di tutti gli attori aventi causa. Perché, ripeto, la situazione è veramente traumatica e finalmente, purtroppo, in questa disgrazia abbiamo trovato la totale unione. 12 sigle riunite, diciamo, in una stessa conferenza stampa, penso che sia un evento unico, non solo a livello regionale, ma penso soprattutto a livello nazionale. Le 12 sigle, in maniera unitaria, chiedono la sospensione dei mutui e dei finanziamenti per almeno due anni, la sospensione e riduzione dei contributi IMSS, azzeramento dei tassi di interesse per finanziamenti e acquisti scorte. Perché non possiamo permettere che in un'annata come questa il nostro sistema più importante dell'agricoltura regionale vada in crisi con possibilità di chiusura di parecchie aziende e anche mutualità sul sistema vitivinicolo abruzzese. A risentirne maggiormente le cooperative, 33 nella nostra regione, che hanno registrato un calo dei conferimenti di circa l'80%. Sinceramente stiamo vivendo un momento buio, difficile, sia nella gestione, nel rapporto dei soci, ma soprattutto si rischia di non riuscire a mantenere la continuità azientale. Noi ci siamo trovati a lavorare l'80% in meno delle uve conferite, capite bene che legati a tutta una serie di vincoli, sia per lo status di cooperativa, sia per le entrate in vigore e le nuove norme, abbiamo delle serie difficoltà nella gestione corrente. Il 31 ottobre ci sarà una seduta straordinaria del Consiglio regionale, dedicata al tema delle misure urgenti a sostegno del settore agricolo abruzzese. I nostri amministratori pubblici e amministratori locali dovrebbero essere bravi a portare a Roma le nostre istanze, che sono veramente istanze di un settore del tutto in crisi, e ovviamente se queste istanze ben raccolte possono portare a livello nazionale a un adeguato ristoro.